Si potrebbe definire la prima sfida d'alta classifica del campionato d'eccellenza 2017-2018 se non fosse solo la seconda giornata. Benvenuti allo stadio Mario Battaglini, Rovigo, Femmich Z, Rugby, Rovigo, Delta, Fiamme, Oro. Il pilone sinistro, Brugnara, prima seconda per lui, Buscema, Perno, fermato, c'è ancora vantaggio per Mitrea, gioca, prova al drop, Martinelli, vediamo se entra. L'abito dice sì, per cui immediatamente al primo minuto... Di Bacchetti ed Edouardson, Boggiani ci provano ancora. Buona difesa a Cremzi, eh sì. D'altro è una squadra di guidi per cui sappiamo perfettamente qual è il concept. Ruffolo, vediamo se scarica, ci prova lui, sfidando Cristiano e Sepe. Altra fase per Rovigo, Davis. Ancora Rovigo dentro i 22. Banderine su, Odiete. Non c'è la volontà di farla diventare una partita chiusa. Parte subito De Marchi, vantaggio ancora Rodigino. La pressione su loro, Monberg, mettono le mani. Il giocatore delle fiamme, Crosskick, Edouardson e Odiete. Si è in possesso al neozelandese, arrivato da Rotorua quest'anno. Parte Davido Odiete. La conferma arriva dall'Acquaglio. 6-3 a Rovigo. Buoni metri per il talonatore rosso-blu. Non una gran palla per Jordan Davis. Anche lui avanza. C'è anche un vantaggio per Rovigo. Pavesi la tiene viva per Riccardo Brugnara. Alza la mano. Parte Odiete. Facile, facile, semplice, semplice. Riceve le cure dei sanitari. Buscema. Se l'è mangiato, non era difficile sul punto. Era molto vigile, tra l'altro. Buscema, prova lui. C'è una buona palla per le fiamme oro con Massaro. Rallenta un po', attenzione, fiamme. Edouardson, prova in escarsi lui, sfugge, un primo placcaggio. Vediamo il neozelandese se riesce ad andare oltre la linea di meta. È sulla linea di meta. Sta andando bene il multifase dei Krems in questo momento. E c'è la meta delle fiamme oro. C'è il tentativo di conversione di Filippo Buscema. Un bandino in essù. Fato un venerdì sera sanissimo. Là. Ruffolo la prende. Buona questa rotazione. Ancora Rovigo avanza col proprio pacca. È buono, è buono. È buono. Ci prova Monberg. Metà di Jacques Monberg. Quando siamo al 14esimo. Nel frattempo è pronto ad entrare Duca. È buono il calcio. È buono il calcio di Dieter. È buono il calcio di Dieter. Il calcio di Dieter è ben indirizzato. Sulle bandierine. 19-13 Rovigo quando mancano 8 minuti. Non decidiamolo noi. Però mettiamo due rosso-blu e due Krems in su. Ma non c'è la pubblicità adesso, no? No. Ok. Guardiamo questa introduzione. Poi lo diciamo. Mischia combattutissima. C'è l'avanzamento di Rovigo. Fallo per Rovigo. E qui probabilmente finisce il match. Sulla pressione di Guido Calabrese. Per cui andiamo con man of the match. Fiamme. Poi ti dico i miei. No, ti dico i miei. Va bene. Amenta Caffini. E Rovigo, 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 non lo saprei.